Salve a tutti ragazzi, sono N1001 Oggi vi faccio gli auguri di Pasqua Oggi vi facciamo Un... Eggs opening Se l'ho pronunciato bene Si che l'ho pronunciato bene Comunque, uno si domanda Egg opening, Eggs opening Che castica significa? Eh, vabbè, semplicemente significa Apertura dell'uovo, ce l'avete presente? Crash Royale con chest opening Aprire un baule Quello rrrr, vediamo cosa c'è Una carta inubile, vabbè Comunque, questa volta sarà un uovo Perché ovviamente siamo A Pasqua e quindi ci sono uovo E forse, siccome mi hanno dato un uovo Lo apro assieme a voi E qua c'è un coltello Eh, tranquilli Tutto a posto Comunque questa coltello siamo sfruttando per aprire Tranquilli Indovinate che uovo è Preto Tan 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 Meglio che non faccio La flip challenge con l'uovo Ok Il momento dello spacchettamento Non ci uscirò mai, ciò questo presentimento Comunque Serve l'uvo di fa dj In una dinamita non ho mai aperto uovi Frequentemente ogni anno Quindi, va Un uovo che vuole Eh, vanno con me No, no, tranquillo Sei più robusto di me per favore Apertura dell'uovo Adesso, come tipico di Crash Royale Devo aspettare tre ore Ore aspettate Mamma mia quante ore No, vabbè tranquilli Spiegatemi come si apre Si apre così Si apre così Si apre in quel modo Alberino mi ammazzo E quanta cazza E' rimasto ancora incontenuto No, l'ho liberato No, l'ho liberato E' il momento Della fase 2 Con un colpo letale Si eleva Stai attenzione che cade il cioccolato Non so dove mettermi Spero che lo vedrete, ok? Se sono un po' tagliato Ah, è stato tagliato Se sono un po' tagliato dalla testa Niente Un colpo solo 3, 2, 1 Ci sarei riuscito Caspite No Un'altra busta Io manco con un coltello professionale Riuscire ad aprirlo A mani nude Si e qua è antipersone Impossibile Ho trovato due braccialetti Adesso li do in un clan Così che scioglio Tieni uno e poi sono finite le carte Uno E la mano Manco mi entra E l'altro per la testa come un ninja Non mi entra, quindi l'altra mano Dobbio braccialetto Ok cerchiamo di Sistemare tutto questo caos La parte più importante di Pasqua è questo Cioccolato Vabbè questo qua Lo indosso per un giorno Per finisce che me li scordo Ditemi a voi che colore vi piace? Verde o rosso? Verde o rosso In ogni modo Spero che il video vi sia piaciuto Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi per non perdere nulla E ci vediamo al prossimo episodio Ciao Dovevo dire ciao ciao Ma... Va bene lo stesso